In via Redentore ieri pomeriggio un'accesa lite tra un passeggero di 50 anni e l'autista del bus pubblico che è terminata con una denuncia al passeggero per interruzione di pubblico servizio. L'uomo una volta salito sul mezzo pubblico che assicura il trasporto urbano ha iniziato a disturbare il conducente del bus distraendolo più volte dalla guida lamentandosi per le precarie condizioni igieniche del mezzo e per la scarsa professionalità del personale. Ha avuto così inizio un acceso diverbio col conducente e con i due controllori della stessa azienda. Nel frattempo la corsa del mezzo di trasporto cittadino è stata interrotta per ben 40 minuti in mezzo che assicura il servizio di trasporto urbano a causa del comportamento molesto dell'uomo è stato fermo circa 40 minuti in via Redentore. Poi sono intervenuti i poliziotti della sezione volanti dopo una segnalazione che hanno denunciato alla locale procura della Repubblica il cinquantenne per interruzione di pubblico servizio.